Ciao a tutti, sono Mario e sono nella sezione di Terno, dove c'è per l'idolo che ci porta almeno a Napoli centrale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Firenze, Santa Maria Novella, Roma-Tiburtina, Napoli centrale. Non c'è il finestrino qua, scusa. Ma io la vedo qua. Eh, è uguale. Ma è carissima. Grazie a tutti. 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 siamo arrivando a Napoli centrale per quale motivo vai a Napoli centrale? Napoli centrale è questo treno per quale motivo? perché andiamo a Napoli? perché dobbiamo avere qualcosa andiamo a trovare i nostri cugini e poi i nonni non andiamo a trovare i nonni andiamo a trovare anche i nonni e anche i nostri cugini a me piace Napoli mi piace Napoli a te? siamo arrivando a Napoli centrale la stazione di questo treno italo porta a Napoli centrale che è una altra città la Brunfio e poi la nostra carrozza c'è la prima classe ah ho capito eh, la prima classe e dopo... abbiamo anche il nostro bagaggio qui e quando andiamo a trovare i nostri treni andiamo a trovare i nostri treni andiamo a trovare la spartola e la prima classe la vediamo più la prima classe perché abbiamo pagato il mondo e quanto ha pagato questo treno per viaggiare? eh, 65 euro ma sei in prima classe qua eh ragazzi? eh sì, sono in prima classe guarda, guarda qua ci sono ci siamo? ci siamo questo è il treno bellissimo sai quello? questo qua è buono eh eh anche perché ci hanno mandato poi ci hanno mandato qua qua guarda qua stiamo arrivando a Napoli centrale Napoli stiamo arrivando a Napoli stiamo arrivando stiamo arrivando a Napoli lo voglio ragazzi dopo tre anni precisamente quasi siamo ritornati a casa alla casa del... come si dice? il ritorno del... il ritorno del guerriero ci siamo fatti anche questa volta è andata speriamo che saremo nel porto mamma mia mamma mia che è che bello è caldo voglio canta ragazzo tutti contenti arrivano a Napoli vedi? vada signora com'è contenta arrivata a Napoli mi sei contenta amore? tanto mi tremano le gambe mi fanno Giacomo Giacomo ma ci sono i miei gommi? ma quello non è? hai messo il mio? sì sì ma quando? ma quando? mi fanno bene la fotografia ci possiamo fare ci dobbiamo mettere in diretta? scusami io vado da me e noi se direte non blocca non bloccare non bloccare dalla mano su chi mette la mano da mano stagio no che ciò è ma va non vedi 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 non si vede non lo faccio mamma titre non si vede non si vede Non c'è niente, non c'è niente ragazzo. Non c'è niente, non c'è niente. Non c'è niente, non c'è niente. Non c'è niente.